Questa sera riprende, dopo un'attesa e con il suo proverbiale fermento, l'appuntamento del mercoledì e sera abruzzese con il Varietà e il cast di Fidati di me, capitato da Federica Peluffo, in versione estiva, l'insegna del divertimento, 8 puntate in onda da 4 location d'eccezione della nostra costa, con momenti scoppiettanti e esilaranti, consigli per i consumatori, momenti di cultura, la ricetta dello chef e tante altre sorprese che Antonio Di Giosaf, Tambra Porreca, Lisa Angelone e Luca Di Girono stanno preparando per i nostri telespettatori. L'appuntamento pertanto questa sera alle 21 su Rete 8 con la prima puntata di Fidati di me estate, lo stabilimento qualcuno l'avrà già riconosciuto è quello di Penelope a mare a Pescara, ma ci saranno poi anche altre location itineranti per questa bella formula estiva che ci porta sotto l'ombrellone senza dimenticare il nostro Varietà, di cui tanti nostri spettatori sono fedelissimi per il mercoledì sera.